buonasera benvenuti 8 e mezzo sabato buonasera bentornata chiara geloni giornalista e responsabile della comunicazione di articolo 1 buonasera bentornata claudia fusani giornalista parlamentare e buonasera benvenuta alessandra ghisleri direttrice di euro media research avete sentito che romano prodi l'altro giorno ha definito il nuovo partito di renzi uno yogurt per il nome ma anche per la scadenza quanto può durare lo yogurt a guida di renzi subito dopo la pubblicità alessandra ghisleri romano prodi ha definito l'altro giorno il nuovo partito di renzi che si chiama italia viva uno yogurt per il nome e perché ha una scadenza quanto può durare secondo lei questo yogurt a guida renzi intanto vista il tempismo che ha utilizzato nella creazione penso che fino alle prossime elezioni nazionali e quindi in teoria anche l'opinione pubblica le vede non prima di due o tre anni quindi subito dopo dovrà innestare degli ogm per poterlo fare durare ma nel senso che lei dà per scontato che quindi questo governo durerà due tre anni le intenzioni più che più che scontato nelle intenzioni anche perché evidentemente ci saranno delle liti in parlamento ci vedremo delle bagarre ma nelle intenzioni c'è quello di farlo durare così ma il percepito anche della gente va nella stessa direzione cioè sentono che questo governo è stato messo proprio per durare un po sia dalla parte dell'opposizione per chi crede che magari vogliono mantenere il proprio poltrone sia dalla parte di coloro che sono sostenitori del governo perché vedono una possibilità nuova di far costruire qualcosa di diverso rispetto al precedente claudio fusani tu hai capito qual è il programma di questo italia viva di questo nuovo partito che cosa in cosa si distingue dal partito democratico beh innanzitutto per esempio se se l'altro giorno il ministro delle infrastrutture ha potuto andare a genova e dire facciamo la gronda no sapete che la gronda e questa importante struttura viaria di genova cinque stelle dicono di no nel programma questa cosa non è chiara come tante altre cose quindi se il ministro del pd ha potuto andare al genova dire facciamo la gronda e non ci sono state reazioni particolari da parte cinque stelle credo che l'abbia potuto fare anche perché sa che di qua più verso il centro a un gruppo di voti che possono eventualmente sostenere il pd in uno di in uno dei tanti passaggi stretti che ci saranno con cui in questo governo con questa alleanza sarebbe quindi il nuovo partito di renzi quindi di centro esattamente cioè nel senso il io non so quale programma credo che il programma sarà presentato alla stazione leopolda quando ci sarà manifestazione quindi 18 20 ottobre però da quello che ho capito ho capito che soprattutto loro cercheranno di tenere in piedi in maniera molto chiara il mandato riformista del pd un mandato che probabilmente in alleanza con i cinque stelle probabilmente rischia di scivolare un po troppo a sinistra poi ovviamente tutto molto soggettivo ognuno può pensare se sia meglio le riforme a sinistra però insomma invece il riformismo per renzi uno dei motivi se posso raccontare un piccolo retroscena per cui c'è stata questo questa questo scatto in avanti è stato anche perché vedere mettere al lavoro un ministro con con tutto il rispetto nunzia catalfo che la mamma del reddito di cittadinanza sapete l'ha stato lei che l'ha scritto e il ministro del sud provenzano che ripeto bravissimo professionista svime però sono due persone che sono due cazzotti in pancia a renzi quindi in nella forma beh perché comunque lei in quanto reddito di cittadinanza di cittadinanza renzi lo ha attaccato sempre comunque tutto il pd lo attaccato io non so avete visto che l'impegno è di non toccare le le cittadinanza non so come faranno non toccarlo perché qualcuno si dovrà rimangere fortemente ci arriviamo ci arriviamo allora io per la verità non ho capito chiara geloni il programma di questo nuovo partito di renzi ma forse ha ragione claudio fusani quando dice aspettare la leopolda e così ci spiegheranno qualcosa di più certo un po strano fondare un nuovo partito senza un programma che fretta c'era perché tutta questa fretta mi pare che siamo nel campo non tanto della politica quanto della manovra politica è evidente che nonostante la narrazione dell'estate suggerisse l'idea che il nuovo governo che nasceva era il trionfo di renzi questo governo nel momento in cui nasce esauriva il ruolo di renzi perché evidentemente renzi per farlo nascere aveva rinunciato alla posizione che lo contraddistingueva dentro il partito democratico che sulla quale aveva tenuto dal 4 marzo 2018 vincolata la linea politica del partito democratico zingaretti compreso cioè la linea mai con i 5 stelle rinunciando a questa posizione renzi non aveva più un ruolo politico e ovviamente renzi non concepisce e questo l'abbiamo già visto anche in questo in questo in questi mesi da quando zingaretti è diventato segretario non riesce a concepirsi come una parte di un di una di una soggetto collettivo in cui non è lui che guida renzi ha sempre vissuto zingaretti come una controparte e quindi nel momento in cui è nato il governo ha ragionato come diceva claudia fusani dicendo mi hanno dato questo ministero hanno dato questo ministero agli altri e non come uno che fa parte di ma come tutti la formazione di questo governo è stata una spartizione tra le correnti del pd impressionante lo sai meglio di me però Renzi con i back notice 5 a 1 4 all'altro non c'è da scandalizzarsi il pd è un partito che è fatto così ma renzi non è pago di questo di essere una corrente del pd vuole come ha detto lui stesso stare al tavolo vuole essere lui che parla con conte che parla con maio zingaretti speranza gli altri leader della maggioranza adesso ci arriviamo ci arriviamo di nobiltà perché se diamo dei giudizi morali forse allora un attimo ci arriviamo subito però vorrei interpellare ancora alessandra ghisleri perché prima cosa le scissioni in genere non portano bene a chi le fa nell'opinione pubblica secondo lei sono chiare le ragioni della scissione di Renzi e il problema di Renzi è che non sa stare in minoranza ma diciamo che quando interpellati proprio sul tema hanno risposto in due modalità uno il 65 per cento delle delle risposte ha detto chiaramente che è un'operazione di palazzo e quindi ha intuito perfettamente qual era la motivazione da un lato dal lato della tattica politica dall'altro invece emerge come il 50 per cento di coloro che dichiarano di esprimere il voto per Renzi intuiscono a loro volta che Renzi non sarebbe potuto esprimere intuiscono che la necessità di dover creare una strada diversa da quella che sta prendendo o sembra prendere questo governo la necessità di far emergere anche la sua personalità e le sue politiche queste sono le motivazioni che spingono quel piccolo nugolo di persone che attualmente decide di votarlo è evidente che i voti oggi sono come dire sono aleatori si sceglie sull'onda di quello che è stata la sua grande presentazione si aspetta la leopolda e si aspetta il programma quindi tutte le valutazioni su quello che è il valore del suo partito sono semplicemente delle adesioni al momento all'idea poi vedremo se andrà avanti anche perché non presentandosi alle regionali alle prossime regionali lui non ha mai un confronto politico reale con la popolazione quindi deve costruirselo e ha tutto il tempo per poterlo fare ecco ma il suo istituto di sondaggio quanto gli dà al partito di Renzi? ma la prima rilevazione ha dato un risultato tra il 4 e il 6% però ripeto è proprio veramente indicativo è proprio un'attenzione verso un progetto perché non è proprio un'intenzione di voto reale Claudia Fusani Renzi ha detto lo ricordava lo ricordavi anche tu di essere o di sentirsi come un intruso nel partito democratico ma è questo il problema o il problema è effettivamente quello di non riuscire a stare in minoranza e quindi all'interno di un partito dove ci possono essere anche tante opinioni diverse fare dei compromessi senti allora io adesso rimettermi a fare la psicologia su Renzi francamente non lo so io non lo so se lui io non lo so io non ho una conoscenza tale da poter dare un giudizio di questo tipo quello che so no 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 si dà un giudizio politico no perché la politica è anche compromesso o soprattutto compromesso allora io penso questo lui ha fortemente voluto in questi anni che il PD prendesse un tipo di strada assolutamente verso le riforme verso un certo tipo di rapporto con il mercato come dire tutto quello che è la sinistra nella sua testa è stata soprattutto un'attenzione a quelli che sono tutti i vari diritti no però il rapporto che Renzi ha avuto con il mercato non è esattamente un rapporto da uomo di sinistra anzi questa è la cosa di per cui lo hanno accusato di più quindi dietro questa scelta c'è il fatto che comunque questo PD con i 5 stelle cioè nel PD in questo momento c'è chi sta dicendo che con i 5 stelle si può pensare ad un'alleanza nel tempo molto lunga ecco io invece questo credo credo sono sicura che Renzi non abbia alcuna intenzione di immaginare se stesso in un'alleanza di lunga durata con i 5 stelle e in quale alleanza vuole stare allora visto che tanto se non cambiano la legge elettorale e comunque tanto più se vogliono andare verso il proporzionale intanto andando alla tua domanda sicuramente lui è uno che vuole giocare in come dire vuole essere in proprio questo non c'è dubbio l'uomo è un leader ha una sua leader piace non piace simpatico non si piace però ha un carisma e quindi questo non c'è dubbio e nel PD è anche evidente è chiaro insomma chi di noi sta in Parlamento e chi lo vede abbiamo visto ormai da tempo che erano due cose separate quelle no anche perché occhiatacce in quest'ultimo periodo quando Renzi era anche abbastanza in giro per il mondo e ogni intervista penso a Zanda ogni intervista improvvisamente ritornò fuori Renzi no? c'era un po' che lui desse fastidio non c'era dubbio che lo volessero spingere fuori non c'è dubbio non capisco perché adesso si sono tutti stupiti del fatto che lui se ne sia andato si sapeva che se ne sarebbe andato sulle capacità dell'uomo di stare in una collettività non lo so non lo so Chiara? Io non sono stupita che lui se ne sia andato sono anzi penso che questo esito fosse abbastanza inevitabile Renzi non ha mai partecipato alla vita del PD ha soltanto imposto la forza dei numeri quando ha avuto la maggioranza quando non ha avuto la maggioranza non si è neanche schierato all'ultimo congresso non ha detto per chi votava quindi è evidente che non è interessato alla vita di quel partito Ma non è simile l'accessione di Renzi a quella che ha fatto Bersani? Guarda io considero niente di personale ma questo paragone lo considero veramente offensivo politicamente e personalmente perché è appunto la differenza che c'è tra la politica e la manovra politica la scissione che è stata fatta e tra l'altro le scissioni non è detto che portino sempre male sai io ho partecipato alla scissione dei popolari nel 95 dalla scissione dei popolari è nato l'ulivo, è nata una vittoria elettorale è il leader morale di quella scissione, si chiama Sergio Mattarella e oggi sta al Quirinale quindi non è detto che le scissioni siano per forza una cosa da condannare con un moralismo che secondo me in politica non funziona ma la scissione del 2017 nasceva da un fatto politico gigantesco, drammatico milioni di elettori di sinistra che non si riconoscevano più nel partito democratico poi io so già qual è l'obiezione dice ma non vanno votato ok, non sono stati bravi quelli che sono usciti dal PD con Bersani a proporsi come un'alternativa a far capire che articolo 1 poteva essere un voto utile altrettanto che quello dato al PD non hanno saputo rappresentare tutta quella gente che se n'era andata ma il fatto che loro ponessero dentro il partito il problema della mucca nel corridoio cioè di una destra che stava sconfiggendo la sinistra di governo il partito democratico che perdeva la sua identità e la sua natura e quindi lo zoccolo duro dei suoi elettori questo era un tema politico nella scissione di adesso non c'è nessun tema politico non è che puoi fare la scissione per la gronda sinceramente non è un tema su cui fare la scissione adesso se dici questo però mi stai rendendo banale è un discorso che è un pochino più complesso ci sono tutta una serie di temi in questo governo tu sai benissimo dal reddito di cittadinanza a quota 100 che non possono andar bene a un certo elettorato del PD possono andar bene magari articolo 1 c'è una differenza politica non c'è dubbio ma guarda che il reddito di inclusione l'ha fatto gentilone ma il reddito di inclusione sono d'accordo sono assolutamente d'accordo il reddito di cittadinanza è un'altra cosa il reddito di cittadinanza è un tema identitario Zingaretti ha detto sì a quello c'è un problema perché la sinistra non può essere identitariamente contro il fatto che si combatta la povertà se diventa un fatto identitario è un problema tu mi stai mettendo in bocca una cosa che non ho detto il reddito di inclusione è una cosa sacrosanta non a caso hanno impiegato due anni per farla funzionare bene perché era difficile individuare esattamente le persone destinatari andava finanziato con più soldi perché 2 miliardi e 7 erano troppo pochi quindi tu devi, non c'è dubbio, il re deve andare a 6 miliardi, a 5 miliardi e occuparsi dei 5 milioni di poveri ma il reddito di cittadinanza tu sei meglio di me che è un'altra cosa tu sei benissimo di usarti che sta producendo non così tanto da giustificare un tema identitario allora c'è un problema politico c'è un problema politico dopodiché Bersani ha fatto la scissione dopo cioè Renzi arrivò al 40% poi ha perso tutto 5 anni prima della scissione no, era 2014 3 anni ha perso tutto il partito democratico in quei 3 anni da quel 40% è cominciato un attacco continuo non è mai stato percepito come uno della ditta Renzi ha brutalizzato le minoranze questo lo sanno tutti attacco cosa? non c'era neanche lo spazio per dire qualcosa nel partito democratico allora venivano imposti i numeri della maggioranza dove tutti parlavano però ah parlavano? pensa un po' beh potevano parlare ma è mica poco no? Ghisleri cosa di tutto questo? l'opinione pubblica cosa percepisce? e Renzi quando dice io non sono né di sinistra né di centro e voglio guardare agli elettori del futuro si può valutare questa categoria del futuro cosa vuol dire? cosa capisce l'elettore? ma allora intanto bisogna dire che siamo di fronte a un riassetto della politica importante Renzi l'ha capito e quello che sta capitando è che lui è stato lungimirante da questo punto di vista perché anche la sua scissione sposta il governo ancora più a sinistra perché toglie quella 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 lura quel pensiere che si possa pensare che questo governo possa coprire dai moderati con Renzi con Renzi all'interno sì ma senza Renzi no e quindi spostando la sinistra si apre una prateria all'interno di quello che è la zona centrale dove sta Forza Italia dove stava il PD di Renzi dove ci sono quelle persone che sono più moderate Forza Italia le vede più liberali il PD di Renzi le vede in un'altra modalità ma c'è una rivoluzione che è diversa perché riguarda la Lega che ha delle tematiche che si stanno spingendo verso la destra riguarda Fratelli d'Italia che sta cercando un accordo in una certa direzione riguarda Forza Italia che deve trovare un suo posizionamento un suo futuro e riguardano un sacco di altre nuove movimenti che vogliono nascere vogliono essere presenti e che evidentemente non trovano una chance adesso lui dichiara di non essere né di destra né di sinistra perché gli fa comodo e perché evidentemente deve trovare anche nemmeno di centro dice che non è neanche di centro ma infatti perché la politica diventerà non a caso ha accettato una sfida con Matteo Salvini proprio per cercare un dualismo nuovo e diverso e quindi non c'è un motivo per cui ci sia questo scontro perché non ci sono delle elezioni imminente tolte le regionali Matteo Renzi non si presenta ci sono due una piazza che è quella di Salvini e una Leopolda che è quella di Matteo Renzi però non essendoci delle elezioni imminenti non so mi viene in mente il famoso scontro con Santoro tra Travaglio e Berlusconi però c'erano delle elezioni dopo un mese invece adesso non ci sono delle elezioni quindi la necessità è quella di spingere a un nuovo riassetto politico questo io credo che lui stia stia cercando di fare breve breve però ci sono adesso nove regioni che andranno a votare però Renzi non si candida no 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 ma attenzione però è un voto molto importante è spagnato in due step in due passaggi tre andranno a votare tra ottobre e gennaio sono Umbria Emilia Romagna e Calabria le altre sei quindi di queste nove regioni due sono al centro-destra e resteranno perché Veneto e Liguria rimangono al centro-destra le altre sei Salvini sta facendo una campagna elettorale a tappeto Salvini è presente la piazza di Pontida lo ha dimostrato chiaramente Salvini è in campo non a caso Renzi sta scegliendo di essere lui l'anti Salvini perché è un tipo di messaggio che arriva facilmente anche fuori capito però queste elezioni sono molto importanti che poco poco dovessero andare male al PD a centro-sinistra non lo so quanto potrà reggere il governo abbiamo capito che c'è una scommessa sulla sconfitta di Zingari no 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 io non mi auguro nessuna sconfitta io spero che finiscano 7 a 2 che rimanga questo e me l'auguro per il paese questo perché secondo me è un buon equilibrio non parlavo di te infatti parlavo di Renzi come dicevi tu la linea di Renzi che è effettivamente un leader politico che ha una linea è anche sempre abbastanza la stessa cioè la linea è quella di essere post ideologici dire le bandiere i simboli la tradizione della sinistra la diamo per scontata io faccio una politica che occhieggia in tutte le direzioni che scommette su una destra che cerca il centro e sul fatto che magari c'è una leadership declinante di Berlusconi sui moderati e quindi quei voti arriveranno da me peccato che questa linea di Renzi sia già fallita più volte non solo nel 2016 al referendum ma anche tutte le elezioni amministrative che si sono svolte durante la sua segreteria però la Chisleri ci ha detto che c'è in realtà uno spazio io credo ci sia una domanda però di una politica più una proposta più forte più identitaria tu non puoi proporre alle persone il futuro perché lì ha ragione Prodi il futuro non significa niente una persona davanti ai suoi problemi ma non va a votare perché non gli dici il futuro non va a votare perché non gli dà una soluzione c'è una mancanza di offerta politica io credo che bene o male Renzi si sia posto questa domanda ma io penso che ci sia una mancanza di offerta politica anche a causa di questo a causa di Renzi questa politica post-idologica è priva di identità allora io reinterpello subito di nuovo Alessandra Ghisleri ricordandoci però che non è che con l'uscita di Renzi dal partito democratico lì sono rimasti gli ex DS la sinistra perché è entrata la Lorenzin che diciamo più di centro di lei c'è Gentiloni c'è Del Rio ci sono tanti moderati nel partito democratico Ghisleri sì ma ci sono due realtà e Renzi questo l'ha capito perfettamente una è la realtà istituzionale delle camere che ha una rappresentatività che non c'è in questo momento nel territorio perché il voto dell'europe ci ha dato una nazione completamente trasfigurata rispetto a un anno precedente quindi quello che Renzi ha fatto è un'operazione per far nascere un qualcosa che si stacchi dal PD per qualsiasi scissione tornando al discorso della divisione che si stacca da un partito così forte identitario e subito va ad elezioni risulta una scelta perdente infatti tra la scissione dei popolari e l'elezione di Mattarella sono passati 25 anni allora quello che va costruito è un'identità politica di Renzi con un valore con un programma con delle persone e con un nuovo tipo di fare politica così lui l'ha dichiarato è evidente che senza il brand PD se si andasse a votare domani non ci sarebbero tutti quei voti anche perché con la nuova legge cioè se domani ci fossero le elezioni ci sarebbero sei partiti sulla scheda elettorale perché dovrebbero tutti raccogliere le firme in tempi utili e validi e quindi avremmo solo i sei partiti Ghisleri ma Italia Viva le sembra efficace come nome per un partito o ricorda più uno yogurt come dice Prodi forza Italia Italia Forza Italia Viva e Viva l'Italia insomma sono nomi che con sono un frame facile il nome Italia è un nome importante che è il nome della nostra nazione metterlo nel brand è forte comunque è forte ed è facile da ricordare l'associazione con lo yogurt è difficile da avere perché il dato vero è che poi ci vuole un leader un nome di un partito un programma e soprattutto ci vuole il territorio questo io credo che sia il nodo più critico per Renzi ecco Fusani allora il territorio e lì si vedrà come questo nuovo partito riuscirà a insediarsi a costruire una diciamo una propria presenza rilevante e poi ricordava prima Ghisleri con chi si lancia questo nuovo partito con quali facce con quali personalità allora Maria Elena Boschi può essere ancora una front runner una senti per me questa roba qui che si chiama Italia Viva a me è dispiaciuto molto che Prodi che persona così elegante abbia avuto un'uscita così acida ma insomma chiudo la parentesi Prodi in genere è una persona molto più elegante molto più alta però secondo me è in linea con il gusto dello yogurt si ma è stato molto acido si vede che c'è qualche cosa che magari ci sfugge no secondo me Italia Viva ha un frontman pazzesco si chiama Teresa Bellanova c'è Prodi Prodi è un uomo che ha sempre lavorato per l'unità del centro-sinistra ha fatto l'ulivo quindi naturalmente gli dispiace ho votato Prodi molte volte siccome è un professore persona sempre molto elegante sono rimasta colpita che l'altro giorno abbia usato una metafora così un po' cheap tutto lì ma era solo un inciso invece per me il frontman che io vedo front women scusate di questa di questa formazione è uno solo si chiama Teresa Bellanova che non so se l'avete mai vista partecipare a qualche convegno a qualche dibattito ha una capacità lei è proprio bono degli U2 cioè ti tira e ti fa ballare bravissima la trova una donna molto capace con grande con grande carisma e molto trascinatrice quindi Maria Elena Boschi starà un po' in disparte anche perché è un po' bruciata beh diciamo che lei non lo so non mi permette da giudizi però non mi pare che abbia queste capacità di trascinamento insomma è un pochino più un pochino più sulle sue la terra Bellanova è proprio vieni qui che ti porto via capito? sei d'accordo Chiara? ma io penso che sia molto giusto quello che diceva la dottoressa Ghisleri riguardo al territorio un partito non si fa solo col ceto politico e parlamentare e se no fai i verdini cioè fai un'operazione che quando la legislatura si allunga serve a traghettare a dare delle rendite di posizione è molto grave soprattutto per uno come Renzi che è arrivato anche al potere sull'onda di una certa narrazione che per esempio che per esempio non ci sia praticamente nessun sindaco nella scissione che sta facendo nemmeno il sindaco di Firenze però loro contano insomma nelle prossime settimane nei prossimi mesi di avere molte avvisioni non ci devono essere io vi posso dire che ho però l'impressione siccome qualche volta mi capita di girare sul territorio di partecipare a qualche incontro la mia sensazione è che non ci sia più un renziano neanche a pagarlo in giro cioè mi pare che sia un po' finita allora voi dovreste dovreste tornare nel partito democratico visto che Renzi è uscito perché non tornate voi di articolo perché non eravamo usciti per un problema di antipatia personale ma per il problema politico che dicevo prima e mi pare che il PD che pure ha preso una strada certamente un po' discontinua con Zingaretti però non faccia effettivamente i conti con molte cose è giusto quello che è stato detto prima ci sono state delle scelte anche nella formazione stessa della squadra di governo che si contraddicono tra di loro perché in questo momento il PD è un compromesso una specie di pace armata tra componenti una dice non si tocca il Jobs Act neanche morti e l'altra dice Provenzano Ministro del Lavoro finisce che Provenzano fa il Ministro del Mezzogiorno è una via di mezzo politica è compromesso e magari il Ministero del Lavoro si lascia ai grillini la politica è compromesso ma l'identità di quel partito secondo me non è ancora chiaro quale sia e dove vuole andare il fatto che Zingaretti oggi consegni personalmente a Beatrice Lorenzin la tessera del partito ieri abbia consegnato personalmente a Beatrice Lorenzin la tessera convinto che questo riequilibra l'uscita di Renzi secondo me dà l'idea che non è chiarissimo a Zingaretti che la priorità per il PD è ritrovare un'identità ma non le bandiere rosse io sono vengo ho citato la scissione dei popolari vengo da lì non è una questione di simbologia comunista ma è questione di essere devo giustificare chi si deve giustificare ma perché mi dai sempre un giudizio morale quando io parlo di politica sto dicendo che il partito democratico non sa più chi è ha perso la strada io non ci rientro in un partito che non so cos'è e neanche gli italiani sanno più chi è bene io penso invece di dire con buona certezza che Renzi una cosa chiara le riforme allora lui è l'esclusiva del riformismo no? però lui le ha fatte però lui le ha fatte lui le ha fatte Pierluigi Bersani non sono riformisti sono Renzi è riformista bene le devono difendere le devono difendere portarle avanti perché si va avanti con le riforme non si va avanti negando la globalizzazione ma che c'è tu con la globalizzazione ci devi fare i conti la caricatura devi fare la sintesi diciamo che ci sono tante forze che cercano di trovare una sintesi sulla globalizzazione e per i politici in tutto il mondo è complicato chiaramente ma io adesso vi voglio far vedere il punto di Paolo Pagliaro perché stiamo parlando di scissioni e la storia delle scissioni italiane non riguarda ovviamente solo la sinistra pochi secondi di pubblicità e poi il punto che scindersi e rinascere sotto altre sembianze sia lo sport più praticato dai politici di sinistra è in realtà un pregiudizio infatti l'arte della scissione rigeneratrice è molto diffusa anche negli altri settori dello schieramento politico a destra dove un tempo c'era il movimento sociale italiano nel corso degli anni sono nate quasi sempre per scissione una decina di sigle che hanno avuto alterne fortune da n ad alternativa sociale da forza nuova a casa pound da libertà d'azione a fratelli d'italia dal fronte nazionale alla fiamma tricolore dalla destra al movimento nazionale per la sovranità stessa cosa al centro dove ogni legislatura ha proposto nomi e simboli nuovi nati da strappi a biure e ripensamenti con certosina pazienza il post ha fatto l'elenco dei partiti che hanno avuto una rappresentanza in parlamento almeno una volta dal 2000 a oggi e dunque abbiamo rivisto il centro cristiano democratico ccd creato da casini e mastella che non volevano aderire al neonato partito popolare per timore che potesse entrare in una coalizione di centrosinistra abbiamo trovato i cristiani democratici uniti cdu di buttiglione l'udr di cossiga e l'udeur di mastella rinnovamento italiano di lambertodini democrazia europea di sergio d'antoni forza del sud dell'ex dirigente di forza italia gianfranco miccichè io sud di adriana polibortone noi sud di arturo ianaccone e infine grande sud non voleva restare nell'udc il giornalista deputato francesco pionati e allora fondò alleanza di centro francesco rutelli uscì dal pd dopo l'elezione a segretario di bersani e fondò con tabacci l'api alleanza per l'italia poi tabacci abbandonò api e fondò centro democratico nei motori di ricerca la parola scessione è affiancata alla parola sinistra in realtà sembra più una caratteristica del costume politico nazionale Alessandra Ghisleri qua il dibattito è andato avanti durante la pubblicità e quindi insomma ci rivedremo ancora in questa formazione ma in chiusura le vorrei chiedere di forza Italia intanto che fine farà e perché Berlusconi ci ha tenuto a ricordare l'altro giorno che Renzi non è il suo figlio politicamente parlando beh l'ha raccontato lui stesso nell'intervista che ha lasciato qualche giorno fa cioè lui ha la necessità lui ha una storia diversa la necessità proprio di raccontare una storia diversa Renzi rispetto a lui Forza Italia ha la necessità di raccontare qual è il suo punto qual è la sua strada e di riuscire a riunire le varie anime perché anche come il PD all'interno ci sono delle anime che si avvicinano molto di più alla Lega delle anime invece più moderate e liberali e quindi Forza Italia ha il compito di riunire questo sentimento se vuole esistere ancora proprio perché abbiamo un momento difficile nel quale la politica sta rimescolando le sue carte e si sta creando si stanno creando dei nuovi assetti e quindi bisogna essere veloci rapidi con tempi giusti per creare il proprio spazio e quindi far votare l'elettore nella propria direzione e Berlusconi è il leader giusto ancora per Forza Italia Berlusconi è il simbolo è il simbolo di Forza Italia ed è fondamentale che ci sia per i voti raccolti perché all'interno del partito non c'è nessuno che sa raccogliere e sa riunire intorno a un simbolo i voti per quanto siano molto ridotti rispetto agli inizi però ci sono sempre sono solo nella sua direzione grazie grazie Alessandra Ghisleri grazie Chiara Geloni grazie Claudia Fusani grazie spettatrici e spettatori vi lascio ai programmi della rete e noi come sempre ci vediamo lunedì 8 e mezzo arrivederci e buona domenica grazie a tutti